Da una parte le start-up più innovative, dall'altra loro, gli investitori del domani. Amin, Lucrezia, Maria Luisa, Giacomo. Hanno le idee chiare su cosa debba avere una start-up per conquistarli. Dei soldi. Essere utile e molto fantastica. Deve essere originale e onnivativa. Originale e onnivativa. Originale e speciale. Deve essere qualcosa fuori dal normale. Sono preparati e molto professionali. Un business plan? Non lo so. Quali start-up riusciranno a convincere la nostra giuria? Faccia a faccia con il futuro.